Ciao amici, benvenuti in questa nuova puntata di Dario che vi fa vedere delle cose sempre per la categoria video diario, questo è un video che tra 50 anni quando un incendio avrà distrutto la mia casa o la mia fidanzata ha venduto tutto posso riguardare di qua, guarda nel 2021 avevo questi dischi perché infatti oggi vi faccio vedere tutta più o meno la collezione di 45 giri che sono questi per intenderci, i singoli, ok? in vinile che ho qui, non tutti tutti quelli che ho in verità quelli che ho al momento disponibili prima di tutto cosa sono dei 45 giri? sono dei dischi, ovviamente sempre in vinile formato più piccolo che invece di girare a 33 giri al minuto girano a 45 giri al minuto quindi tecnicamente dovrebbero avere una qualità audio migliore ma praticamente non è mai così perché si rovinano molto facilmente ma sono molto molto importanti invece per il mercato, diciamo, della musica in Italia perché sono molto importanti per il mercato della musica in Italia? inizialmente spostiamo la luce perché all'epoca venivano venduti molto, ok? perché la gente, soprattutto, i 33 giri costavano molto il supporto i 45 costavano meno il lettore del 33 costava tantissimo perché doveva avere un impianto mentre per i 45 giri negli anni 60 e 70 si poteva usare questa cosa qui ve ne faccio vedere due se riesco ok, questo è un pack son 80 questo è un mangiadischi in pratica adesso si vede poco ma qui dentro ci mettete un 45 funziona batterie e qua sopra esce la musica qualità infima e si chiama mangiadischi perché vabbè il disco lo metti dentro se neanche lo mangi ma anche perché li distrugge effettivamente infatti molti 45 giri sono, li troviamo ormai rovinati e ai collezionisti interessano poco in verità purtroppo perché sono in verità molto molto importanti ve ne faccio vedere un altro di 45 questo è un po' più bellino ma comunque è sempre molto scarso questo è anche la radio ok il disco si mette qui questo è anche la spina si può usare anche in casa, diciamo, fisso qualità infima, ve lo assicuro questo video magari verrà diviso anche in due o tre parti adesso vediamo in base a quanto viene lungo perché i dischi sono tanti di ogni disco vabbè adesso alcuni sono inutili alcuni sono dei doppioni di altri magari vi posso dire anche qualcosa di interessante comunque vedeteli tutti come dei consigli musicali ok niente iniziamo da quello che vi ho fatto già vedere prima Riccardo Cocciante Cervo a Primavera RCA questo è tenuto abbastanza bene poi questo non proprio comune John Lennon e Yoko Ono nella copertina come si vede Just Like Starting Over e il retro è Kiss 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 questo non è bellissimo però John Lennon se lo trovi a un mercatino non lo compri cosa sai stronzo poi un grandissimo batterista che ha fatto anche della musica non grandissima però negli anni 80 era famoso vabbè Tulio De Piscopo ovviamente se suonate Latin jazz lo conoscete per forza se ascoltate Pino Daniele lo conoscete per forza perché ha fatto per molto tempo il batterista di Pino Daniele personaggio anche abbastanza famoso della televisione Stop Buy On comunque questa canzone è consigliata tra le tante di di quelle che ha suonato tra l'altro appunto come dicevo prima con Pino Daniele in questo caso quindi se non la conoscete ascoltatela questi sono i dischi che acquisto mio fratello Sereno e Drupi la lasciamo stare questa invece è una canzone molto bella forse non la conoscete di vecchioni me ne piacciono davvero poche in verità di canzoni tre probabilmente Samarkanda Luce San Siro è questa che è Strano Amore forse non lo sai ma pure questo è Amore e dietro c'è Il Capolavoro comunque Philips questa canzone se non la conoscete super consigliata andatela ad ascoltare ora questa se conoscete le storie tese conoscete anche questo disco Ramaya di Afriximon canzone molto famosa degli anni 80 questa ecco non comunissimo allora ovviamente numero 1 quindi la casa discografica di Battisti Formula 3 io ritorno solo questo uno dei un po' sottovalutate come gruppo nel revival della musica italiana questo è un capolavoro questa copertina è bellissima Squallor con scritto disco non prodotto e la canzone è 38 luglio e racconta la giusta dietro 38 luglio se non la conoscete è un capolavoro assoluto era il 38 luglio e faceva molto caldo era scoppiata l'afa i dischi sono messi proprio in posizioni a caso e ve li faccio vedere vi possono aiutare in qualche modo come dicevo prima comunque i dischi sono molto importanti per il mercato musicale italiano degli anni 60 e 70 ma non solo italiano perché appunto erano quelli che venivano venduti di più adesso i singoli non esistono più già dagli anni 80 sono un po' scemati negli anni 90 con i cd esistono dei dei singoli in cd dopo magari ve ne faccio vedere uno dovrei averne un paio singolo in cd c'è un cd apposta con su una sola traccia due tracce al massimo un po' così adesso su iTunes si puoi comprare la canzone singola però ha perso un po' di significato invece una volta si vedeva un po' il successo anzi a volte il disco il 33 l'album con tutte le canzoni usciva dopo prima usciva il singolo che diventava famoso e poi si creava l'album su quel successo lì una cosa che ormai noi non facciamo più questa la conoscete sicuramente San Francisco di Scott McKenzie canzone simbolo degli anni 60 del movimento hippie questo è un disco non proprio comunissimo Queen Flash dal colonna sonora ovviamente del film Flash Gordon Flash Gordon approaching per intenderci Stevie Wonder I just called to say I love you con una bellissima copertina di Stevie Wonder un paio ce le ho questa è una canzone capolavoro per lo ska italiano anni 80 Donatella Rettore la canzone che si chiama Donatella io non capisco perché tutti quanti si ostinano insistentemente a chiamarmi Donatella capolavoro assoluto clamoroso anzi come dice il testo dietro questa altra canzone simbolo dell'anni 80 Ivana Spagna Easy Lady altra canzone simbolo della disco anni 80 italiana e non solo della disco anni 80 diciamo così Bandolero questo è Virgin Disky tra l'altro Bandolero Bandolero no non è quella lì stavo scherzando questo lo evitiamo perché fa schifo effettivamente questo disco rovinatissimo è il singolo di per un pugno di dollari di Morricone si vede anche una scena del film sopra e anche dietro Clint Eastwood Marianne Koch questo però purtroppo è davvero davvero rovinato questo è un disco del clan quindi Adriano Celentano che come musicista è sempre stato top mentre mi sta un po' sulle balle per il resto comunque sia Mondo in Mi Settima che è una canzone tutta in Mi Settima come dice la canzone molto interessante tra l'altro si parla di un criminale della mia zona in questa canzone molto consigliata se non la conoscete purtroppo Celentano viene un po' sminuito per diciamo quello che è successo dagli anni 90 in avanti però se ascoltate le canzoni originali top questo è un capolavoro con una copertina orribile trio da 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 se la magari non vi dice niente la copertina è orribile è orribile questo disco bruttissimo sigla invece di Odeon come dice anche la copertina kit emerson quindi quello degli emerson like and palmer il tastierista l'organista onky tonky train blues onky tonk train blues questa è una musica strumentale molto famosa perché appunto in italia era la sigla di questo programma questo è un tarocco che però ha comprato mia madre perché lei ce l'aveva uguale questo era uno di quelli sai per intenderci che vendevano in spiaggia ok adesso non in spiaggia però al mercato i banchi un po' così un po' tarocchi luglio disco per l'estate 68 ma in un'edizione che come si può vedere non è proprio official ecco e ne esistevano tanti di questi tra l'altro questa è una storia interessante su questi queste cose qui christopher cross or right vedete il fenicottero un altro famoso è un disco molto famoso il 33 quello appunto con il fenicottero di christopher cross che adesso non mi ricordo come si chiama quello con sailing per intenderci comunque questo questo è battisti con il nastro rosa dal e una giornata uggiosa dietro o questo 33 anche molto interessante tra l'altro è strano perché appunto si gira con il nastro rosa è così ma se lo giro è al contrario molto interessante comunque due hit gigantesche di battisti di battisti ne ho un po' questo questo è un capolavoro non so se la conoscete Charlie faccia da pirla che nel cd credo abbi credo nel cd abbia il o nel 33 forse qui ha il lo specchio cioè per dire che questa è orribile non l'ho ascoltata neanche per niente questa è un'edizione non un granché di don't stand so close to me dei police però non mi soddisfa perché è il 45 sbagliato poi andiamo a Antonello Venditti sotto il segno dei pesci che avevo già fatto vedere un po' di tempo fa il 45 quindi qua abbiamo sotto il segno dei pesci e Sara come altro singolo che usciva i singoli uscivano un po' come li intendiamo adesso cioè in un album una canzone su cui il cantante spinge molto o la casa discografica più probabilmente spinge molto ma a volte uscivano prima come vi dicevo prima L'ora dell'amore ecco questo Camaleonti molto interessante 2,80 euro si vede quando anche l'ho comprato al mercatino di Gallarate un po' rovinato perché qualcuno deve averlo messo in un raccoglitore Homburg dei Procolarum è una cover molto bella le versioni dei Camaleonti molto molto interessanti tra l'altro è morto da poco il cantante intervista non lo so poi grande mia passione degli anni 80 Bonnie Tyler mi piacciono un sacco le canzoni di Bonnie Tyler Holding Out For A Hero la conoscete per forza se conoscete a parte che vabbè qua dice che è preso dall'LPD di Footloose quindi così a naso vediamo eh potrebbe essere se è Footloose potrebbe essere Mororder non lo so eh perché su cui molte erano stati prodotti da lui comunque Bonnie Tyler questa la conoscete se avete visto Shrek sì e c'è anche una cover Black Metal incredibile Baker Street di Jerry Rafferty non vi dirà niente ma se lo ascoltate è Cerva Primavera ve lo giuro è uguale ovviamente un super classico Claudio Baglioni in questo piccolo grande amore con queste copertine orribili di Baglioni degli anni 70 tra l'altro il retro di questo piccolo grande amore è questo piccolo grande amore vediamo non mi ricordo sinceramente dove si apre no Porta Portese c'è dietro però non c'è scritto Porta Portese qua che è strano questo è strano questo è questo l'ho comprato perché è troppo bello vota PSI quindi Partito Socialista come dice qua sotto se vedete c'è una falce un martello adesso non so di che anno sia 75 dovrebbe essere da una parte c'è Felice Montesano eh Felice Montesano sì ciao Enrico Montesano che è un comico un discorso questi sono quelli che venivano venduti o regalati alle feste appunto del PSI o per motivi di propaganda ce ne ho alcuni perché sono molto interessanti dal punto di vista storico e dietro c'è questa canzone qui che si chiama 15 giugno 75 degli Equipo 84 quindi una band molto famosa già all'epoca però ovviamente a tema PSI mi fanno molto ridere questa se conoscete Rocco Siffredi la conoscete per forza Bon I Am Daddy Cool e dietro c'è la pubblicità venivano usati anche per fare pubblicità il 45 Cristina D'Avena la canzone dei Puffi beh cosa non può mancare ovviamente Ultravox perché facevano delle copertine incredibili in questo caso Rockwork adesso non è non è incredibile sta canzone ma e Ierofima Mon Amour non è incredibile questa canzone degli Ultravox però se conoscete gli Ultravox appunto magari vi piace Equipo 84 29 settembre con questa copertina qua che vedete bellissima il retro è dov'è è dall'amore che nasce l'uomo un'altra canzone molto molto famosa ovviamente di dell'Equipo 84 famosa per tanti altri pezzi che magari dopo vedremo canzone vincitrice di Sanremo adesso non so di che anno si può dare di più Morandi Ruggeri Tozzi questa non so cosa sia la bottega dell'arte guardatelo ascoltatela non la conosco Alberto Radius nel Ghetto questo è molto interessante sentori molto molto prog molto cattivi se non conoscete nel Ghetto in particolare pensami non mi dice nulla ma nel Ghetto andatelo ascoltare se vi piace il genere Donna a felicità non all'amore dei nuovi angeli va bene lasciamo perdere andiamo su qualcosa di livello Fiori Rosa Fiori di Pesco Lucio Battisti e il tempo di morire dietro quindi questo c'è un discone comunque con questa copertina fronte e retro della testa di Lucio questo è strato dal live di Dire Straits che si chiama Alchemy e in particolare c'è su Solid Rock e Love Over Gold come dice qui questo questo è bello molto interessante Gianni Morandi uno su mille cioè l'occhio è davvero così è strano ma è così e dietro c'è 1950 sempre di Gianni Morandi un pochino rovinato purtroppo questo disco Ivatussi Edoardo Vianello che vabbè la conoscete tutti per un motivo molto molto specifico dato un colpo al microfono incredibile scusate Ipu che sono molto molto sottovalutati ma tanta voglia di lei con questa quanto ha sono anni 70 appunto se la girate ci sono orribili queste copertine il retro è tutto alle 3 che invece non conosco questo allora questo è un gruppo un po' un po' strano sono il giardino dei semplici è un gruppo direi napoletano campano quantomeno che fa delle canzoni un po' particolari ma sono molto cioè sono un po' neomelodiche passatemi il termine molto 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 interessanti dal punto di vista compositivo la composizione l'arrangiamento i suoni degli archi dell'orchestra paurosi dovrei avercene un altro da un'altra parte comunque la canzone è concerto della minore dedicato a lei consigliata proprio dal punto di vista musicale e il retro dovrebbe essere dopo un rock and roll Bigazzi Savio Le Blondie Art of Glass questa la conoscete per forza tratto dall'LP Parallel Lines qua siamo neanche un terzo della collezione che ho di qui Love is in the air John Paul Young e Won't Let This Feeling Go By tratto qua dice versione originale bene meno male Angelo Branduardi cogli la prima mela questo molto molto interessante Branduardi che è della mia zona il retro è se tu sei cielo dovrei averne altri comunque da un'altra parte questo allora interessante non è non è incredibile però è abbastanza raro perché Roger Grover il bassista dei Deep Purple in un pezzo singolo che si chiama Love is All interessante capolavoro assoluto per gli Afro Die Child di Demis Rousseau e Vangelis di Vangelis abbiamo già parlato da qualche parte sì abbiamo già parlato in qualche video se non mi ricordo It's Five O'Clock super super consigliata se non la conoscete insieme ad altre degli Afro Die Child come Spring, Summer, Winter e Fall e We Shall Dance di Demis Rousseau da solo super super consigliata se non la conoscete una lacrima sul viso Bobby Solo con questa coppa questo c'è quanto è inizio anni 60 incredibile se bruciasse la città se avete visto l'ultimo film di Aldo Giovanni Giacomo e il retro è Rita e c'era anche una pubblicità dietro pubblicità delle batterie Ucar Donna Summer adesso non conosco I Feel Love e Can't We Just Sit Down and Talk It Over non le conosco ma sono sicuramente di More Order adesso vediamo se sono di More Order quindi è per quello probabilmente che le comprate vabbè Donna Summer assolutamente top si prodotte da More Order I Want To Know What Love Is The Foreigner non so come si pronuncia e Street Thunder anche questa questa la conoscete sicuramente copertina anni 80 la musica che mi piace di più probabilmente questo capolavoro assoluto Bronsky Beat Bronsky Beat Small Town Boy adesso vi faccio vedere questa la conoscete sicuramente ho anche il 33 di questi torniamo su Claudio Baglioni poster sabato pomeriggio ovviamente con questa copertina sempre baglioniana orribile David Bowie Absolute Beginners questo altro capolavoro che tra l'altro oggi è o ieri adesso non mi ricordo è o tre giorni fa adesso non so quando dice con questo video l'anniversario 5 anni della morte quindi Absolute Beginner di David Bowie incredibile con dietro il bambino che fuma avrai Claudio Baglioni va bene Claudio Baglioni hai rotto molto bene Toto Rosanna questo vi ho fatto vedere il 33 tutto vi ho fatto vedere dei Toto ovviamente Rosanna capolavoro questo lo togliamo pezzone incredibile degli anni 80 Life is Life anzi Live is Life degli Opus che esiste purtroppo e Up and Down indietro che esiste purtroppo solo in versione 45 live cioè non solo 45 non esiste in versione studio non ho mai capito perché vabbè sigla di Sandokan degli Oliver Onions PhD I Won't Let You Down quello lì e con Hideway quello di ah no non è quello lì non so cosa sia poi questo è uno dei pochi metal air metal in questo caso se riesco a non vabbè Europe Rock the Night purtroppo mi si è attaccato Marcella Bella dietro adesso devo staccarlo Marcella Bella tanto ne ho due quindi vedete il fronte e il retro montagne verdi capolavoro assoluto niente il primo video finisce qui e abbiamo visto un terzo della pila sostanzialmente vedremo l'altro restante tra un po' di tempo tra qualche secondo anzi facciamo così con Marcella Bella ciao